Grazie sindaco, grazie sindaco De Magistris, grazie prefetto per l'accoglienza, signor Presidente della Regione, cari sindaci tutti, intanto sono mortificato per il ritardo, mortificato per il ritardo, cerchiamo di recuperare rapidissimi, anche perché non credo di avere molte parole da aggiungere se non quelle di gratitudine verso tutte le strutture tecniche che hanno reso possibile la firma del patto, a cominciare naturalmente dal professor De Vincenti che qui chiude i patti che qui aveva iniziato. Ricorderete che proprio in questa sede firmammo il primo patto qualche mese fa con il Presidente De Luca e siamo molto felici di poter oggi firmare il patto con il sindaco De Magistris e con tutti voi amici della città metropolitana. De Vincenti e De Magistris hanno già detto, i sottosegretari del sindaco hanno già detto tutto per cui io non aggiungo altro se non rimarcare tre o quattro considerazioni già fatte. Il metodo di lavoro per noi è le amministrazioni decidono e noi ci impegniamo a finanziare in un rapporto di controllo reciproco. I sindaci controllano il governo, il governo controlla i sindaci ma soprattutto i cittadini controllano tutti noi. Questo è un passaggio di metodo fondamentale, nel senso che qui c'è scritto dove vanno i soldi, in che tempi, con quali regole e ciascuno di noi è chiamato a vicendevolmente controllare il buon operato. È evidente che nelle scelte che sono state fatte, che non sono partite oggi come ovvio che sia, giustamente c'è un progetto in campo, dovevamo inaugurarlo, poi è venuto De Rio perché ci fu un piccolo problema tecnico in quel caso, la metropolitana, quelle stazioni della metropolitana possono fare di Napoli la metropolitana oggettivamente più bella del mondo. È anche un elemento da vendersi a livello comunicativo, a livello internazionale, non sottovalutiamolo. E quindi il fatto che ci siano tutte le risorse necessarie a completare, a completare questo passaggio, è un elemento di grande rilievo, di grande valore. Il fatto che ci siano le scelte già fatte in passato ma da valorizzare e finalmente da realizzare oggi su Scampia in primis, sono secondo noi un punto di qualità della buona amministrazione a livello locale, a livello nazionale, a livello internazionale perché se riusciamo a mostrarci su questo capaci di fare un lavoro serio e rigoroso sarà un bene per gli abitanti di Scampia ma sarà un bene per tutti quelli che hanno solitamente stereotipi e pregiudizi nei confronti del mezzogiorno. E allora sotto questo profilo bene l'intervento specifico che oggi viene immaginato per 308 milioni di euro. Approfitto per dire ai signori sindaci vi prego progettate sull'edilizia scolastica. Chi è stato sindaco o chi lo è sa che, le ho detto di progettare perché lei ha fatto con il labiale con quali soldi, quindi il collega con il labiale ha detto con quali soldi. Parliamoci in modo molto franco, noi abbiamo avuto anni in cui abbiamo smesso tutti di progettare, non di costruire, proprio di progettare perché la filosofia dell'austerity ha portato a ridurre gli spazi e tra chiudere un asilo o non sistemare un marciapiede tutti noi abbiamo dato priorità agli asili, dico gli asili, i servizi, però questo meccanismo non può andare avanti. Ma per far partire le gare per come funziona l'Italia, la conoscete meglio di me, se noi non facciamo le progettazioni non ci sarà mai la fase 2 della gara e poi delle opere. Allora sull'edilizia scolastica ritagliate le risorse per la progettazione che sono abbastanza minime rispetto all'opera e noi diciamo che tutto ciò che serve per l'edilizia scolastica sta fuori dal patto di stabilità. Questo è un dato di fatto, è un norma, non è più un impegno politico, è un dato di fatto perché l'edilizia scolastica in una terra piegata dal terremoto, non piegata, piegata dal terremoto tre volte negli ultimi sette anni e peraltro in questa regione ne sapete qualcosa qualche anno fa, qualche decennio fa, questi argomenti sono fondamentali, vanno mandati avanti. In più aggiungo, noi abbiamo finanziato i progetti della città metropolitana ma dico anche a tutte e a tutti voi di continuare a fare progetti sulle periferie e soprattutto sugli impianti sportivi perché è vero che i primi 183 sono stati finanziati dal CONI sulla base dell'accordo governo CONI ma noi quella gradatoria vogliamo rimpinguarla e tenerla aperta per cui anche chi non è stato dentro, chi non è stato scelto dei vari soggetti interessati a impianti sportivi potrà vedersi riconosciuto il proprio impegno. Dunque in sintesi estrema, bene la depurazione, bene Napoli Est, bene gli interventi sulla metropolitana, bene le scelte che ha fatto l'amministrazione, noi siamo dell'idea che per chiudere rapidamente e velocemente il metodo di lavoro migliore sia quello del controllo reciproco e del controllo da parte dei cittadini. Alla fine questa discussione sul sud è stata utile, nel senso che è partita male secondo me un anno fa, è partita male perché è partita l'ennesima discussione sul mezzogiorno fatto senza concretezza, noi abbiamo scelto di tentare di portarla a terra, anche di litigare dove è stato necessario, però alcuni impegni concreti escono da questa fase di poco più di un anno con nome e cognome di chi deve fare le cose e tempistica. Poi ciascuno si tiene le sue idee, come è noto con il sindaco di questa città ne abbiamo molte di diverse dal punto di vista politico ma dal punto di vista istituzionale Napoli è più grande di qualsiasi divisione possibile e quindi ciò che serve per questa città lo sa bene il Presidente della Regione visto i 3 miliardi di euro sulla programmazione 2014-2020 che sono necessari a quest'area, come è doveroso che sia perché di fatto Napoli è la capitale del mezzogiorno e sotto questo profilo noi abbiamo bisogno di dare un messaggio di ripartenza a Napoli per far ripartire tutto il mezzogiorno non soltanto la città, abbiamo degli impegni concreti su cui i cittadini potranno giudicare ma abbiamo soprattutto finalmente un approccio che è quello sul quale chiudo che per me è fondamentale e sul quale vi chiedo da ex sindaco a sindaci di darci una mano. Noi non costruiremo l'Italia di domani continuando soltanto a fare l'elenco delle cose che non vanno. Ci sono, ce ne sono tante, continuano ad esserci ma compito di chi amministra, lo sapete bene voi in particolar modo i sindaci dei comuni più piccoli, era poi Napoli ha una conformazione nella sua città metropolitana particolarissima per cui comunque essendo un unicum urbanistico stiamo parlando di comuni che hanno 70-80 mila abitanti quando ci sono capologhi di provincia che ne hanno 30 mila o 40 mila dunque è evidente che la conformazione è diversa ma anche i comuni più piccoli devono sapere che il loro apporto è decisivo per il futuro di questo paese, non si va avanti lamentandosi soltanto, si va avanti provando concretamente a cambiare le cose. Allora signor sindaco grazie per la disponibilità dei suoi collaboratori e sua per chiudere l'accordo, grazie signor presidente per il lavoro continuo e costante e ne abbiamo ancora tanti di partite in ballo, ne approfitto per dire che sul mezzogiorno nella legge di bilancio c'è la conferma dello sgravio del Jobs Act al 100% attraverso peraltro l'utilizzo dei fondi PON quindi sostanzialmente quelli che dicono che il lavoro è cresciuto soltanto grazie alla parte incentivi del Jobs Act che è un argomento che io non condivido ma che rispetto e che ha portato a più 580 mila posti di lavoro dal febbraio 2014 devono sapere che nel mezzogiorno lo sgravio rimane al 100% quindi mi sembra un fatto importante da dire anche a chi ci segue da casa dagli imprenditori chi investe o meglio chi assume nel mezzogiorno ha la possibilità di avere lo stesso sgravio contributivo che aveva nel 2015 con il Jobs Act mi sembra una cosa particolarmente importante e significativa tuttavia c'è ancora molto molto da fare sarà bello e importante farlo per onorare quella faccia tricolore che ciascuno di noi porta chi la tiene fisicamente perché è il momento di tenerla da sindaco e chi avendola indossata qualche volta se la sente tatuata sul cuore e tatuata sull'anima grazie anche a lei signor prefetto grazie sottosegretario dei vincenti hai finito il lavoro e hai anche finito i soldi te lo segnalo quindi non so che no il fatto che ti abbia finito i soldi è un elemento che vorrei farti sottolineare di fronte a tutte io come da tradizione ruberò la penna alla signora prefetto per testimoniare l'importanza di questo giorno grazie buon lavoro viva napoli viva l'italia ma Grazie.